La maggioranza del Governo propongono una mozione a sostegno del Ministro Chienge e del suo operato. A questo proposito, la Lega Nord come si pone nei confronti sia del Ministro che del Governo stesso? Innanzitutto, più che un sostegno al Ministro Chienge, ci sembra un sostegno al suo di Castero. Entrando nel merito, noi oggi abbiamo voluto dare dei modelli di riferimento al Ministro. Innanzitutto, ricordandole che il nostro Paese è stato un Paese che nel XIX secolo ha avuto una forte emigrazione. Io stesso sono figlio di quegli italiani che alla fine degli anni 50 hanno dovuto espatriare in tutta Europa e in tutto il mondo con la famosa valigia di cartone per poter trovare un futuro migliore. Per cui questo sicuramente è un modello di riferimento nelle parti buone e magari anche in quelle meno buone. Abbiamo consigliato al Ministro di non ascoltare quelle parti politiche che non hanno a cuore il bene del Paese ma hanno a cuore solamente interessi personali e interessi di partito, facendo delle accelerazioni che non vanno bene. Abbiamo detto al Ministro che nel nostro Paese esiste già un'integrazione in corso, quella che noi definiamo la normale integrazione. La proviamo tutti i giorni sui territori a livello locale con i nostri sindaci. E appunto per questo la proposta che abbiamo fatto al Ministro Chiang è quella di portare in dote, per quanto ci riguarda, centinaia di sindaci che lavorano seriamente sui territori e fanno vera integrazione. perché sui territori ci sono dei problemi ma non nascono sicuramente dai nostri sindaci o dai sindaci di nessuna parte del Paese. In più abbiamo voluto stimolare il Ministro affinché vada in Europa e faccia la voce grossa, metta l'Europa davanti alle proprie responsabilità, dica all'Europa di non voltare più la faccia dall'altra parte, mentre nel Mediterraneo la gente va a fondo e lascia tutte le sue speranze nel Mediterraneo. Io credo che sia giunto il momento di prendere seriamente in considerazione la questione e non è modificando la legge sulla cittadinanza che risolveremo i problemi, ma partendo dalle questioni concrete che sul territorio e nel Paese già ci sono.